Puntano a farsi conoscere dal partito pirata italiano e a rendere più visibile anche qui da noi un programma spiegano che è condiviso da 11 diversi paesi europei. Tra le priorità... Puntare ai diritti digitali, a far capire l'importanza della tutela della privacy e della riforma del copyright. Finora i pirati sono stati all'interno del gruppo dei Verdi, ma puntiamo a una grande famiglia pirata europea.